bentornati nelle crypto news e come al solito andiamo a leggere le notizie più importati della giornata andando a vedere cosa è successo sul mercato delle cripto quale risonanza hanno avuto e soprattutto qualche curiosità interessante da poter poi andare a valutare in un secondo momento quindi come al solito prima di cominciare vi chiedo di lasciare un like mi serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentare qui sotto un qualsiasi domanda dubbio curiosità di andarvi iscrivetevi al mio canale e attivare la campagna per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare partiamo da marco verratti compra un'isola esclusiva su the sandbox marco verratti attualmente centrocampista del paris saint germain della nazionale italiana di calcio ha ufficialmente compiuto il proprio ingresso nel metaverso grazie alla consulenza di acta fintech società guidata da gianluca comandini e fabiano taliani verratti acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su the sandbox da exclusive marketplace specializzato negli nft di lusso quindi stiamo vedendo un acquisto di una terra con un qualcosa di costruito sopra e adesso andiamo anche a vedere un video dedicato proprio per quanto riguarda queste isole da una persona famosa che tra parentesi è anche un giocatore di un certo livello nel campionato italiano e logicamente anche quello francese continuiamo a leggere l'informazione the sandbox è una delle piattaforme leader nel metaverso un mondo digitale in cui gli utenti possono socializzare costruire possedere e monetizzare la propria vita virtuale fra gli acquirenti delle isole di exclusive spiccano anche i toro e anna jokovic ex tennista numero uno al mondo andiamo a guardare inoltre un video che è veramente interessante anche perché abbiamo delle immagini che praticamente sono solo e soltanto viste non in maniera artificiale ma questi sono immagini girate in un'isola che è realmente esistente all'interno di sandbox e che è stata costruita da questo exclusive che come vi ho già detto è un marketplace di oggetti di lusso nel mondo del metaverso è un qualcosa di veramente figo onestamente è logico che è meglio non sapere quanto possano costare queste cose però sapere che ormai esistono cose del genere è un qualcosa che ci porta tanta felicità e un po più di certezza nell'investimento che tutti quanti noi continuiamo a fare all'interno del mercato cripto e quindi anche in questo mondo che si sta sviluppando sia il metaverso andiamo alla seconda notizia binance smart chain e binance chain diventano bnb chain martedì l'ecosistema blockchain decentralizzato binance smart chain bsc ha annunciato che binance chain e binance smart chain si uniranno sotto un nome un nuovo nome bnb chain secondo il comunicato stampa bnb significherebbe build and build non bnb ossia la criptovaluta di binance perché sapete bene che la binance coin ha il ticker bnb mentre in questo caso bnb chain è riferito logicamente al ticker ma la sua esplicazione quindi per esteso è build and build a seguire nel nuovo rebranding in bnb chain la parte di governance della chain la binance chain dove avvengono gli staking e la votazione è stata ribrandizzata in bnb bcon chain quindi comunque abbiamo avuto un cambio di di nome che è anzi di brand che è andato a dare un po più di unicità sia la criptovaluta stessa che comunque alla block chain in effetti e tirum era è la block chain ether è il token che gira sulla block chain in questo caso avevamo binance smart chain e invece il token che girava era bnb in questa maniera praticamente hanno unificato le due cose binance smart chain è stata lanciata nel settembre del 2020 come alternativa alla block chain di tirum emulando la piattaforma nel funzionamento ad un costo di transazione un tempo di elaborazioni inferiori in un breve lasso di tempo bsc è diventata una valida alternativa per gli sviluppatori attivi nella finanza decentralizzata defi e per progetti in effetti grazie alla sua semplicità interpretabilità e costi ridotti il rebranding è ulteriore passo in avanti nel viaggio che combinerà la defi e la realtà virtuale del metaverso quindi come stiamo leggendo anche sulla bsc incominceranno ad uscire dei progetti molto più interessanti per quanto riguarda il metaverso e magari anche nativi per la block chain perché come sappiamo i mondi di metaverso come per esempio la sandbox possono in un futuro ad oggi ancora no ma possono diventare a loro volta anche cross chain e quindi magari avere più block chain connesse sui metaversi dando così la possibilità di poter utilizzare diverse criptovalute come se fossero della stessa block chain e quindi dello stesso metaverso supporto schiacciante per la proposta di conversione del btc trust grayscale in un etf spot recentemente la security and exchange commission degli stati uniti ha aperto la sezione commenti e feedback dedicati ad una proposta di modifica delle norme che consentirebbero la conversione del bitcoin trust di chris scale a un exchange trade found quindi etf spot generato una generando una lunga lista di riscontri positivi eric blanchard credo si lega così senior etf analyst di bloomberg ha analizzato le opinioni espresse riscontrando che il 95 per cento sembra essere a favore della conversione proposta questa è una grandissima notizia anche perché sapete benissimo che nel momento in cui si ha anche un bacino di utenza anche molto ampio e anche pronto ad accettare un qualcosa a utilizzare un qualcosa del genere si dà sicuramente più peso nella produzione di un etf simile che tra parentesi diverrebbe logicamente uno strumento per andare ad investire in maniera molto più regolare e regolamentata proprio perché ad oggi qualsiasi nazione nella quale c'è un framework normativo sul mercato cripto e sulle cripto rute stesse è comunque un framework non elaborato e molto logico e stabile un po per la complessità della gestione del mercato cripto e per la sua veloce evoluzione e un po anche perché insomma abbiamo diciamo un framework normativo sulle cripto rute non più da non più di cinque anni quindi comunque c'è poca storia continuiamo a leggere diversi partecipanti alla proposta della sec sostengono che il regolamentatore abbia già approvato prodotti negoziati in borsa basati su future logicamente abbiamo già visto che gli etf sui future già esistono il fondo è scambiato con un discount del 24 75 per cento ciò significa che un btc attualmente valutato a circa 43.600 dollari il prezzo contato del fondo equivale a 32.500 dollari e questo comporta la possibilità di poter effettuare dei logicamente dell'arbitraggio e questo dà sicuramente un vantaggio per effettuare delle transazioni a coloro che se lo possono permettere perché dobbiamo ricordare che un gbtc equivale a un bitcoin intero quindi bisognerebbe comunque avere dei capitali importanti 32.500 dollari ma è anche vero che insomma con 32.500 dollari si riescono ad ottenere quasi 10.000 dollari in più quindi non stiamo parlando di sciocchezze intanto vi ricordo che il 4 febbraio la sec ha rinviato la decisione sulla conversione del fondo gbtc da 37 miliardi di dollari questo perché ancora non si è certi di quello che si vuole fare e ultima notizia più che altro ultima curiosità netflix annuncia una nuova serie sull'hacking da 120.000 bitcoin a bitfinex netflix il gigante dello streaming produrrà presso una serie sulla famigirata hack di bitfinex uno dei più grandi crimini finanziari del 2016 dove sono stati rubati 119.756 bitcoin valutati all'epoca a 72 milioni di dollari netflix ha in progetto una serie doc come un serie documentario sul presunto schema con cui una coppia sposata riciclava i miliardi di dollari di criptolute rubati nel più grande caso di crimine finanziario della storia come evidenziato dai dati di cointelegraph e trading view dal lack di bitfinex il prezzo di btc è salito di oltre il 7.415 per cento netflix racconta in come il valore di bitcoin rubato sia salito da 71 mila 71 milioni al momento dell'attacco a 5 miliardi attuali e inoltre bisogna ricordare ve l'ho già detto nel in un video dedicato l'ultimo a crypto news che abbiamo fatto a domenica che questo è stato anche una specie di investimento anche se non era stato ragionato in questa maniera da parte di bitfinex questo perché al momento dell'hack bitfinex ha restituito in token leo quindi il token di governance dell'exchange il corrispettivo di 72 mi pare milioni di dollari all'epoca quindi praticamente poi tutti i possessori di leo hanno magari venduto o hanno trasformato ancora una volta a loro volta il loro capitale in bitcoin ma in realtà i bitcoin che al tempo è stato dato in 71 milioni di dollari in leo ad oggi equivale in bitcoin in 5 miliardi attuali cosa significa che loro hanno dato 71 milioni in leo e gli stanno rientrando 5 miliardi attuali in btc quindi è stato veramente un gran diciamo botta di fortuna ma quasi come dire un investimento anche se fino a questo momento non si sapeva se sarebbe potuto se sarebbero potuti rientrare logicamente questi fondi rubati e come al solito grazie per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivi al canale attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare andare a visitare il mio account instagram e tic doc davide vasco 85 e se volete contattarmi su telegram davide linea bassa vasco vi ringrazio per aver visto il video e il prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti